questo è caverna di platone questo è si è lui questo è caverna rewind come sempre ci guardiamo il trailer di deathpool e wolverine ma no che capelli stupendi che c'ha un desiderio baby un grande ecco qua desiderio esaudito wade wilson che sei pompa pompa dovrei spaventarmi non è una novità per me caro ma per la disney si no pegging sulla disney attenzione signor wilson a quanto pare te le sei fatta addosso mentre eri svenuto capiamo mai venuto chi sei non sono mai venuto e perché sono qui ma vieni con me wade fuck wait tu sei speciale hai una chance diventare il più eroico tra gli eroi bellissimi proprio i film senza il cinema tiki universe sta per cambiare un po bello io sono le wolverine io sono il gesù della marvel il gesù della marvel guà bellissimo no bellissimo ma combattono dove c'è il logo della fox distrutto adoro questa parte ferma qui eccolo eccolo non stare l'impalato dammi una mano ad alzarmi si faccio da solo grazie ma per pochissimo si è visto wolverine troppo poco troppo poco e questo è sunfire immagino di sì e dietro qua ci sono dei fumetti qua sono quelli della pop art questo è secret wars e le nuove guerre segrete della marvel ai 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 allora io ho un'idea che guardando questo trailer si sta facendo sempre più forte allora guardate i guanti di deadpool qua sono completamente neri qua però c'è deadpool che spara e sono diversi sono diversi sono rossi e neri poi invece sono completamente neri in viaggio con la testa pronti beh per forza ci devono essere deadpool alternativi avete mai letto in viaggio con la testa bellissimo super divertente pop storie di deadpool e beh si viaggia nel multiverso ci sono altri deadpool ma poi nel tempo effettivamente le storie di deadpool sono diventate abbastanza metatestuali che poi c'è stato deadpool che uccide l'universo marvel deadpool uccide i classici deadpool uccide deadpool hanno fatto questa trilogia che anche chiamata uccidologia di deadpool di lui che viaggia in tanti universi narrativi marvel e fa l'impossibile e io adesso mi aspetto che succeda la stessa cosa dai qua ci sta secret wars vedo i guanti diversi ma per forza ci stanno più deadpool dai sono curioso di vedere un po wolverine hanno fatto vedere pochissimo guarda un secondo il costume giallo e blu è sempre un grande classico poi si è visto forse era si è visto un'altra volta si era visto wolverine dove era tra l'altro qui alla tv per forza lo portano in altre linee temporali più che altro sarà da vedere proprio anche gli altri deadpool aspettiamoci il meme di spider man che si indicano tutti con deadpool infatti vediamo qua se c'è qualcosa di interessante allora c'è tutto vabbè mambo jumbo tecnologico e scene da film questo è ah ok film di cap è lui che fa il saluto grande fan di cap lui qua invece sono gli altri film del del mcu però c'è sotto volevo vedere se c'era qualcosa di interessante però non mi sembra a parte qua che vedo una specie di nick fury forse non lo so anch'io ho pensato che fosse il wolverine di madri pur che comunque c'è però scusate c'è chi è questo cattivo del film oddio qua sarà pieno di personaggi interessanti e qua c'è wolverine madri pur sai che penso cattivo del film professor x capiamo può essere può essere perché sta nella sedia può essere non mi sbilancerei però può essere che lui è il cattivo del film non lo so direttamente onslaught fusione fusione tra loro due ma cassandra nel nel corpo è un bordello un bordello sarà un bordello ragazzi la la lore degli x-men è complicata 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 dire poco però dico se c'è se c'è questo wolverine sai magari 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 potrebbero tirare fuori un bel cameo io c'ho questo fumetto di wolverine da da una vita bellissimo che era stato pubblicato da play press se non sbaglio e ci sono wolverine e mister fix it questo non è non è proprio hulk cioè è hulk è bruce banner è un'identità alternativa di bruce banner è mister fix it cioè è una versione di hulk più cattiva diciamo un po stronzo diciamo un po stronzo cioè è un mafioso è un hulk mafioso che gestisce un casino e questa scena mi fa mi fa veramente pensare che possa succedere cioè mi dà proprio queste vibes qua che c'è hulk che gestisce il suo casino magari è in questa è una timeline alternativa non è il wolverine che vediamo alla fine del trailer è un altro wolverine ancora può essere questa cosa qua potrebbe succedere tra l'altro fumetto divertentissimo lo conserva ancora di tutte le cose che ho venduto questo lo conserva ancora perché era molto comico molto divertente vedere queste queste interazioni sto cercando di vedere se ci sono anche altre cose che potrebbero risultare interessanti però non lo so gli fanno il costume su misura eh sì c'è questo che lo veste anche con con le armi ok molto carino gli danno anche lo schiaffetto sul culetto aspetta voglio vedere se nella sala delle armi si vede qualcosa ma ma no no solo la vestizione che un po ricorda kingsman oddio 9 4 3 cosa significherà 9 4 3 riguarda qualcosa oddio adesso se tipo se è un numero di un'uscita di deadpool non lo so però c'è se c'è il numero lì inevitabilmente deve significare qualcosa terra 4 9 3 c'è scritto 9 4 3 c'è scritto tutto un altro numero però vediamo se è così allora earth 9 4 3 vediamo se esiste e chiaramente esiste allora è una terra marvel dove esiste una versione alternativa di giocasta esiste e esiste vabbè non avevo dubbi che esistesse quindi forse finisce su questa terra marvel a occhio può essere inizio del novecento non lo so home world of gatherers giocasta il fatto è che non c'è scritto nient'altro avengers 372 non c'è nient'altro può essere un numero a caso e non lo so io non credo sia a caso cioè nella marvel un numeri a caso ragazzi dai dai non esistono deve essere qualcosa per forza deve essere qualcosa dai abbiamo beccato il fumetto è solo la terra alternativa quella dove c'è questa giocasta alternativa 1943 ah no non penso non penso nella tv ci sia qualcosa che riguarda l'anno e non il numero della terra alternativa forse è solo la terra alternativa forse ci stiamo ragionando troppo vediamo cosa tra l'altro a luglio esce mamma mia tantissimo tempo qua dietro c'è il logo della 20th century fox devastato distrutto un vecchio rudere qua cosa sarà sta cosa sono in una specie di mondo futuristico però un po' post apocalittico sembra un po' alla mad max questa cosa può essere qualsiasi cosa perché adesso nel trailer è una nuvola viola può essere alliot forse non lo so cioè che proprio si tira una persona così perché non prende questo prende lui ok può essere può essere questo è un elicarrier è un elicarrier caduto devastato pure questo sfracellato per terra in tecnologia shield sfracellato sul suolo questo non è un chitauro cazzo ragazzi questa è la battaglia di new york questo è il ponte di brooklyn questa è la battaglia di new york si e se fosse andata bene per i cattivi immagino già unendo i puntini è più chiaro è una nave chitaura gigante la c'è un elicarrier non è destino questo non è mai destino nella vita è una realtà dove la battaglia di new york è stata persa immagino questo palese un altro deadpool tra l'altro palese un altro deadpool questo qua comunque vedo molti practical effects cioè tranne quando ammazza la gente vedo comunque dei set veri il che mi fa molto piacere eh questi due personaggi purtroppo non li riconduco immediatamente a qualcuno in questo momento allora lui è quello dei vecchi film di x-men ok questo non so piro che con l'accendino faceva così e controllava il fuoco vi ricordate che c'è pure quella rivalità con bobby che lui controlla il ghiaccio lui controlla il fuoco c'è un po' di rivalità comunque sempre a bosca e poi va con i cattivi va con magnito a una certa mi ricordo questo boh chissà chi è ma questo non mi ricordo non lo so cioè è anche fuori fuoco non c'è questa maschera boh non mi fa capire e chiaramente wolverine è ancora in vita in questo universo ok vabbè potrebbe essere una specie non proprio old man logan perché non è proprio old man logan ma potrebbe essere una specie ma secondo voi qua lo stanno rapendo o lo stanno salvando sai che cioè perché dovrebbe tirare i capelli eh capito cioè non è che tipo qua lo stanno salvando quello vestito dietro da tva non è uno della tva è un altro personaggio che lo sta salvando cioè le due scene non sono direttamente collegate poi magari oh non è così però perché dovrebbe tirarlo per i capelli no cioè se lo stanno prendendo il loro piano dovrebbe essere quello no chissà però il vestiario è lo stesso ha gli stessi vestiti quando si risveglia dentro la tva ma sta cosa mi fa scervellare non capisco perché quello gli deve tirare i capelli boh forse sono due gruppi diversi di tva boh non lo so vabbè questo abbiamo visto tutto dai non credo che riusciremo a scoprire altre cose da qua dentro comunque sono sono gasato sono gasato mi piace voglio voglio guardarlo dal 24 luglio al cinema tra l'altro questo film a quanto ho capito sarà un film che ha avuto reshoot per via di tanti problemi che insomma ci sono stati ultimamente con la disney e la marvel sapete benissimo però è un film ormai fatto è finito cioè in questi mesi che ci separano dall'uscita ufficiale al cinema si concentreranno sulla post produzione quindi non ci saranno altri cambi di rotta cioè il film è fatto basta non rigirano non riscrivono non cambiano le cose all'ultimo come è stato per quanto mania per esempio che aveva degli effetti speciali ridicoli come è stato per she hulk che aveva un finale brutto è uguale anche per secret invasion che ha un finale orribile forse il più brutto di tutti i finali della marvel in questo momento c'è sempre tempo per peggiorare quindi è possibile che deadpool e wolverine con questa visione con questo nuovo marketing che punta a far capire che oh noi non cazzeggiamo più sarà un film bello denso corposo fatto e finito e soprattutto ci sono deadpool grande ip che si aspetta come il pane e wolverine con l'attore originale u jackman si potrebbe fare il miliardino qua in estate si potrebbe puntare al miliardino e recuperare un po di terreno nei confronti degli altri studio che ne pensate secondo me secondo me potrebbe essere possibile perché comunque sono due personaggi fortissimi che la gente vuole vedere ed è stato ampiamente dimostrato che la marvel quando prende personaggi classici anche di altri universi li mette insieme come è stato per spider man no way home il miliardino l'ha fatto cioè li hanno trattati bene quei personaggi secondo me non cazzeggeranno con deadpool e wolverine piuttosto mi chiedo se sarà la fine di loro due miliardo facile un fanservice alla no way home in salsa mutante in più linguaggio rated r e quando mai capita alla disney che faccia autoreunia pure vietato ai minori è capito cioè il trailer comincia con lui che dice pegging per me non è una novità però per la disney sì quindi secondo me potrebbe essere un film che non dico svolta perché vabbè non lo so non lo so anch'io c'è un po di remore da questo punto di vista il trailer mi sta promettendo delle cose anche se ho visto troppo poco wolverine è tutto di spalle capiamo anche perché l'unico film marvel studios del 2024 i fanboy in assidenza correranno in sala eh già cioè questo è l'unico film che esce quest'anno ragazzi il resto sono tutte serie deve uscire agatha se non sbaglio e poi che esce più quest'anno rob mio fratello fortissimo sicuramente sa tutto mi ricordo che deve uscire agatha forse deve uscire qualche cartone animato unico film cioè ragazzi io penso che qua il miliardo si fa eh questo film dovrebbe mettere le basi per secret wars infatti l'abbiamo visto prima quando lui è steso a terra c'è il fumetto di secret wars proprio c'è proprio messo là spiattellato lì dici guarda che questo è ci sono gli universi che collidono tra loro vabbè proprio basic la marvel ne fa uno poi c'è sony che fa madame web graven e venom 3 madame web già uscito tra l'altro penso sia già un flop annunciato non lo so ah no deve uscire il 14 deve uscire vabbò credo iron art e agatha live action poi x-men 97 e ice of wakanda ok quindi due serie due cartoni e un film ma sì secondo me anche la troppa offerta non ha giovato eh in questi anni cioè troppi film non hanno giovato l'attore di wolverine l'avranno pagato un botto per tornare a fare sto film vabbè sicuro ma magari si diverte pure eh cioè ragazzi voi non dovete ridurre tutto sempre a una questione di soldi cioè lui ha odiato quel personaggio ma perché gliel'hanno fatto fare una merda tantissime volte l'unica volta che l'ha fatto bene credo sia stato veramente nel primo secondo film di x-men e poi in old man logan in logan cioè lì è proprio wolverine incredibile meraviglioso secondo me anche nel cameo di giorni di un futuro passato pure là è bello è wolverine no è fico eppure l'avranno pagato abbastanza voglio dire secondo me lui si diverte però gli devi far fare un bel film no poi ci sta ryan reynolds con lui cioè non è che solo i soldi sicuramente si sarà divertito vabbè se facciamo questo mi piace se facciamo questo ti dico sì cioè non è che gli avranno dato 70 miliardi solo a lui anche perché teoricamente per contratto fino a 2027 non possono introdurre mutanti nuovi e se usano quelli vecchi dovrebbero essere obbligati ad usare gli attori fox quindi comunque è lunga per gli x-men ci vuole ci vuole ci vuole e me infatti mi pare che abbiamo visto abbiamo visto il professor x di spalle mi pare no xavier e dai deadpool l'abbiamo sempre visto con wolverine vabbè dove in quel film di merda dove non è nemmeno deadpool che sta con la bocca cucita orribilante dai bruttissimo che poco che faceva sparava i raggi dagli occhi ma che cazzo significava quel film orribile tre spider-man tre hulk un solo wolverine cuore incredibile e poi di spider-man in realtà ce ne sono moltissimi sai che per me quella è cassandra nova e lo abbiamo pensato anche noi prima mentre analizzavamo il trailer sai cassandra nel corpo di charles vabbè troppe alternative troppe cose possibili boh chissà chissà che poi deadpool nel secondo film uccide quello fatto male bravo 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 super divertente ma infatti questo film sarà tutto così no che lui incontra anche gli altri deadpool ma si vede nel trailer ci sono già dei deadpool diversi nel trailer ma è primo dopo loghi 2 e boh allora in loghi 2 si è capito che la sacra linea temporale è tenuta insieme da loghi che sta là dentro cioè credo sia dopo no cioè comunque vive sempre in un multiverso che però non si sta sfaldando rivedremo quella scena spero di non rivederla spero spero ovviamente di non rivederlo che poi l'ha fatta sempre meglio spider-man nel secondo film il treno un treno interdimensionale un galaxy express sta tenendo loghi adesso che sta per uscire deadpool evolvere in quale fumetto mi consigli dei due anti eroi ok ok ottima ottima domanda allora qualcosa qualcosa da consigliarvi ce l'ho ci sono anche tutti su su amazon quindi facile allora assolutamente da recuperare vecchio logan ne abbiamo parlato tantissime volte mondo alternativo dove i cattivi della marvel hanno vinto wolverine vive in questo mondo distopico post apocalittico alla mad max non si fa chiamare più wolverine si fa chiamare solo logan infatti lui è il vecchio logan old man logan storia di mark miller disegni di steve mcneven proprio meraviglioso manicheo stupendo bravissimo mark miller scrive una storia degna di un film veramente crepuscolare fantastico un western vecchia maniera fatto a fumetti con un personaggio supereroistico invecchiato sofferente e scoprirete il perché in una storia secondo me davvero emozionante con un'ottima narrazione ottimo ritmo da avere storia di gliss crermont e frank miller per avere un po un'idea di ciò che wolverine è diventato nel tempo con delle storie vagamente giapponesizzanti frank miller aveva già tutta una sua idea dell'asia del giappone dei samurai che ha voluto cominciare a inserire all'interno di queste storie funzionano una bella idea bella visione di wolverine che poi è sempre stato un personaggio legato in qualche modo all'idea del samurai all'idea del giappone quindi fighissimo da recuperare non delle storie spaziali però sicuramente belle da leggere capolavoro questo invece wolverine arma x di barry windsor smith qui c'è l'arte del fumetto la quinta essenza del fumetto proprio all'ennesima potenza ed è meraviglia su carta è il passato di wolverine di quando è stato rapito da un'unità paramilitare per trasformarlo appunto in un'arma in arma x ci sono tavole di una bellezza sconfinata tavole che fanno riflettere il lettore sul sugli esiti di una guerra sugli effetti che ha la guerra sugli effetti della guerra fredda su ciò che accade alle persone quando vivono il condizionamento mentale da parte di qualsiasi governo particolarissimo veramente storia che fa male poi invece per per deadpool allora vi consiglierei di leggere la guerra di gilson dove qui c'è una una squadra un po la suicide squad diciamo condominio bullseye silver sable personaggi incredibili che fanno parte vabbè dell'universo x-men ma ogni tanto compaiono anche nelle storie di spider-man altronde deadpool è un po un po una specie di spider-man ed è super divertente violento uno dei fumetti un po più seri di deadpool però che che funziona funziona molto c'è già un deadpool moderno che poi deadpool negli anni 90 non era come lo conoscete oggi qui si cominciava già a fare il deadpool con le personalità multiple con le voci nella testa molto divertente che qua poi vediamo all'ennesima potenza nei re del suicidio re del suicidio anche qui grandi macchinazioni belle battaglie disegnato benissimo c'è sta ad un class che disegna il fantastico è insomma anche qui bella storia con daredevil e spider-man poi questa invece è quella che vi straconsiglio in assoluto purtroppo in italiano non c'è ma a cercare in qualche fumetteria li troverete cercate l'uccidologia di deadpool è una trilogia qui c'è un omnibus che riguarda l'universo marvel cioè deadpool che va a uccidere l'universo marvel le voci nella testa di deadpool gli dicono di uccidere tutto l'universo marvel e c'è stato un periodo dove deadpool faceva tutte queste cose prima uccideva i classici proprio classici della letteratura poi uscireva personaggi della marvel poi uccide anche deadpool ok e se riuscire a trovarla l'uccidologia è molto divertente da leggere qui call and ban lo scrittore si diverte tantissimo a farti vedere i modi più efferati e sanguinari con i quali deadpool potrebbe uccidere i protagonisti dell'universo marvel tutti supereroi deadpool da solo potrebbe ammazzarli tutti la risposta essi è già in play è implicita no ma come gli ucciderà ecco quelli è il divertimento e lì si gode si gode tantissimo e molto probabilmente il il film di deadpool e wolverine che uscirà a luglio sarà secondo me vagamente basato sulle storie viaggio con la testa deadpool c'è l'universo marvel e chiaramente anche secret wars la nuova secret wars del 2015 di ormai quasi dieci anni fa perciò potrebbe essere molto interessante recuperare queste storie per avere un'idea generale dei due personaggi di wolverine e di deadpool ecco così nicolas anche un video completo da fare su cavernale white con i consigli trailer reaction e consigli guarda abbiamo fatto tutto c'è nei film non c'è la voce di deadpool in testa la voce poi sono a volte sono due le voci in base alla didascalia che si vede all'interno del fumetto ci sono didascalia e font diversi di solito sono due voci nei film però sta cosa non c'è chissà se ci sarà stavolta chissà c'è nel film si vede che deadpool è solo così infrange la quarta parete super divertente cosciente di essere un fumetto in questo caso un personaggio del dei film chissà ma il film logan non si ispira vecchio logan certo certo vagamente poter non no 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 ma attraversa